Ogni anno qua sul canale esce un video dedicato all'organizzazione, proprio a inizio anno vi mostro la mia agenda, come ho intenzione di organizzarmi, eccetera eccetera. Però quest'anno ho deciso di non fare un video totalmente dedicato a quello perché non penso che il mio tipo di organizzazione sia cambiato poi più di tanto rispetto agli ultimi due video che vi ho pubblicato sull'organizzazione digitale, magari ve lo lascio nelle schede qua sotto in descrizione. In sostanza ciò che uso io è Notion, un programma a cui ho dedicato effettivamente un video, anche quello lo troverete poi in descrizione per pianificare insomma un po' tutto quello che riguarda la mia vita. Quindi non utilizzo un'agenda cartacea, non utilizzo nemmeno più il kakebo cartaceo nonostante io continuo a utilizzare il metodo kakebo, quindi per segnare le spese di casa, le spese personali, per porsi degli obiettivi di risparmio, eccetera. Volevo giusto farvi vedere un paio di cose che ho cambiato su Notion, dedicate all'organizzazione in generale, più passa il tempo più mi accorgo di quanto io necessiti di un metodo veloce, minimale e proprio terra terra, perché non ho tempo da perdere nel modificare, fare cose. Per quanto mi piaccia rendere tutto bello estetico e con Notion è possibile farlo, è possibile personalizzarlo in tanti modi diversi, però io noto che torno sempre poi a qualcosa di molto minimal. Questa è la pagina principale del mio Notion, la dashboard, dove raccolgo bene o male tutte le altre pagine che ho fatto, mi serve un po' come landing page, da cui posso arrivare a tutto. E soprattutto ho introdotto questa nuova cosa, l'inbox delle cose da fare, ho creato dei vari template per avere subito del colore, insomma, della categoria, un pulsantino dove poter inserire le cose da fare, ad esempio, appatachi, altissima priorità, dopo mi basta semplicemente trascinarlo appunto nella colonna di destinazione, adesso sono le cose che devo fare entro la fine della giornata, in settimana cose che hanno magari una scadenza a breve, dopo invece cose che non hanno una scadenza. Nella parte sotto è tutto dedicato alla sfera personale, dal menu settimanale, che è banalmente un template di Notion, badate le cose che ci sono scritte, ho buttato giù delle robe così a caso, giusto per farvi vedere anche nella dashboard. Questo è molto carino secondo me, come vi dicevo, si trova da scaricare direttamente da Notion, completamente gratuito, per ogni giorno della settimana mi segno che cosa mangiare, pranzo e cena, ed è utile in previsione del piano settimanale, nel senso, io faccio il menu prima di fare la spesa, in questo modo, per ogni piatto che voglio cucinare in settimana, so che cosa è necessario avere, quindi per questo c'è la lista della spesa, sono gli ingredienti che servono per fare i piatti che ho segnato nel menu, poi fra gli hobby, ho l'infinita wishlist di cose che necessito, non sono soltanto sfizie, alcuni sì, ma principalmente sono cose che servirebbero in casa, più o meno grandi, viaggino, l'ho utilizzato tantissimo, però ad esempio quest'estate, ve l'avevo fatto vedere in un vlog, avevo organizzato un po' le cose da vedere a Bergamo, quando abbiamo fatto la gita fuori porta e soprattutto per Budapest. La watchlist è un raccoglitore di serie tv, anime e film che sto guardando, mi piacerebbe curarla un po' di più, quindi anche qua è un po' così, lettura invece, che cosa leggerò nel 2022, adesso ho segnato un po' dei libri del gruppo di lettura, c'è poi il mega catalogo della mia libreria, ho catalogato praticamente tutti i libri che ho in mio possesso, con il titolo, autore, letto, non letto, interrotto, ho inserito anche il vuoto, è una lista veramente infinita, ho fatto la stessa cosa anche per i manga e i fumetti occidentali, stessa cosa per i manga, ho semplicemente segnato anche quelli che ho letto e quanti volumi ho a casa, in modo da poter avere sotto mano una lista in previsione di acquisti. Ho anche un calendario, ma lo utilizzo soltanto per overview, di solito se ho delle cose con una scadenza, metto il pro memoria direttamente sul calendario del cellulare. No, va a cura. No, va a cura. No, va a cura. No, va a cura. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Mi sono accorta di leggere meno negli ultimi anni, un po' per mancanza di tempo, un po' perché non avevo voglia, semplicemente per svariati motivi, ci sta. E in particolare dall'anno scorso ho notato che tendo a preferire libri brevi perché non avendo voglia o non avendo tempo, anche se comunque la voglia di leggere e scoprire nuove storie rimane, mi sento più motivata a leggere quei libri che sono certa di finire in un arco di tempo, diciamo, definito. Non come iniziare magari Il Signore degli Anelli e sai quando inizi, non sai quando finisci, no? Io ad esempio ci ho messo quasi un anno a leggerlo, tra l'altro andavo anche all'università quindi non ho nemmeno idea di come io abbia fatto. Però, preso atto di questa cosa, devo dire che rispetto all'anno scorso credo di aver letto meglio, più storie che volevo leggere io, più storie affine a me. Molte di queste sono inerenti al Giappone ma perché, cioè, io è tipo da più di un anno che sogno di andarci, era programmato e tutto, poi vabbè è successo quello che è successo. Diciamo che sto un po' soffrendo questa cosa e viaggio con la mente e poi ultimamente mi ritrovo in alcune dinamiche, pensieri, filosofie che traspaiono molto dalle storie giapponesi. Banalmente uno dei miei libri preferiti di questo 2021 è stato Le ricette della signora Tokue perché all'inizio ha una buona parte descrittiva proprio della preparazione dei dorayaki e anche della marmellata di fagioli rossi. È una cosa abbastanza tecnica ma io adoro quando gli autori si soffermano anche su quelle piccole cose e le celebrano come se fossero cose straordinarie nonostante riguardino proprio la quotidianità e nel caso ad esempio di questo mestiere è qualcosa anche di meccanico che viene ripetuto. E invece raccontandolo in questo modo è come se ogni volta fosse speciale, in particolare raccontato dal punto di vista di questa signora particolarmente appassionata, non so, è qualcosa che mi ha fatto sentire molto a casa. E noto che sto ricercando molto di più storie riguardanti la vita quotidiana e che sono in grado appunto di farti capire che la vita che stai vivendo, anche se è priva, che so, di viaggi, di eventi straordinari, è una vita speciale, punto. Non c'è bisogno di qualcosa che sia effettivamente speciale per renderla tale. E' un discorso molto lungo e complicato e non voglio nemmeno essere pesantona, però mi accorgo che certe cose successe nella mia vita negli ultimi anni mi hanno portata a ricercare letture di questo tipo e sono molto contenta di averne affrontate tante. Poi in realtà facendo il video delle letture preferite che trovate già online ci sono libri di non fiction, poesia, c'è un'autobiografia che mi è piaciuta tanto, anche un fantasy. Quindi dai, nel mio piccolo ho cercato comunque di variare un po' e sono soprattutto contenta di aver trovato letture belle. Anche per i fumetti, banalmente, ne ho letto... sono diventata rossa per essere al baschermo del computer. Ho letto tanti fumetti, secondo me, più belli rispetto all'anno scorso perché ho letto tante storie che hanno saputo emozionarmi per un motivo o per l'altro. Anche in questo caso molte di queste storie affrontano la quotidianità e mi sono accorta che ho letto anche tante storie che magari sono iniziate e sono anche finite, quindi miniserie. Sono molto contenta. Perché il poverino non sta tanto bene e quindi affronta così lui le sue giornate, se la dorme. Adesso ho embellato tutto così in questo angolino che ho finalmente liberato durante le feste, ho sistemato un po' la libreria, avevo riempito tutto di libri qua, adesso è tornato nel suo posticino. Non ho fatto in realtà grandi cambiamenti, semplicemente ho tolto tutti i fantasy e rimessi in ordine alfabetico, non so se sia una cosa ok o meno, ce ne sono poi un po' anche là. Per quanto riguarda i fumetti sono abbastanza soddisfatta così. Ho sistemato anche i libri giapponesi provando a sistemare per editore, perché purtroppo facendo la cosa dell'ordine alfabetico, che era la cosa che volevamo fare io e mio marito per la libreria, non si possono fare queste colonne qui che sono una manna dal cielo in assenza di spazio. Quindi abbiamo raggruppato per editore, stessa cosa abbiamo provato a fare circa qui, in realtà abbiamo diviso più che altro per autore, perché qua è praticamente tutta Agatha Christie, poi c'è Arthur Conan Doyle e questa serie che sta seguendo mio marito. Abbiamo comunque mantenuto la divisione per generi o argomenti, quindi gialli, thriller, narrativa generale, tutto Giappone, i fantasy, eccetera. Sotto ci sono chiaramente i fumetti, anche questi sarebbero da sistemare un po' meglio, però per adesso ce lo facciamo andare bene così, anche perché abbiamo passato un botto di tempo a cercare di sistemare e poi a vederla così non sembra nemmeno cambiata, però va bene. Adesso mi sa che mi cambio velocemente per fare yoga, come l'anno scorso ho deciso di seguire la challenge di 30 giorni di Yoga with Adrienne, lei ogni giorno mette sul suo canale YouTube un video diverso, con un piccolo programma da fare, abbastanza semplice, devo dire, anche se quello di ieri mi ha fatto faticare parecchio perché sono ferma da veramente tanto tempo, quindi devo riprendere un po', però mi sembra abbastanza alla portata di tutti, anche quella dell'anno scorso secondo me era molto fattibile e quindi l'ho presa come una scusa per motivarmi a fare un po' di allenamento, soprattutto per riprendere pian piano a fare qualcosa. Devo anche sistemare un po' i capelli perché prima sono andata a buttarli in mondizia e ovviamente ho preso il diluvio. Rapido aggiornamento di lettura, ovvero che cosa sto leggendo in questo periodo, sto andando avanti con fiabe giapponesi, ho letto le prime 100 pagine e ne leggo almeno 2 o 3 la sera, quando mi va bene, perché sto leggendo anche Un anno con Virginia Woolf. Questo è lo stesso format di Un anno con Shakespeare, quindi per ogni giorno dell'anno c'è un pezzo di un'opera di questa autrice, di cui so poco come era capitato nel caso di Shakespeare, quindi sono curiosa di approfondire. Ho letto poi il primo volume della Vetta degli Dei di Giro Taniguchi, tratto dall'omonimo romanzo e da cui hanno tratto anche un film che devo ancora vedere su Netflix. Si parla in particolare della scalata del 1924, della misteriosa scomparsa di due alpinisti che stavano appunto scalando la montagna, molto intrigante, devo dire. Ho finito poi in super ritardo Amrita, che era il libro di dicembre per il CBB Club, che mi è piaciuto tanto per alcune cose e non mi è piaciuto per altre. Diciamo che adoro lo stile di scrittura della scrittrice, mi piacciono le tematiche che porta, qui in particolare vediamo una famiglia non convenzionale, non tradizionale, comparsa principalmente da donne, si parla di vita, di morte, di sofferenza, di dolore, di solitudine. Insomma, i soliti temi molto cari all'autrice, c'è un pizzico di realismo magico che non mi ha conquistata, è un romanzo piuttosto lungo e secondo me è un tantino confusionario. L'autrice stessa lo definisce come un libro che non è riuscita ad amare completamente perché è stata molto libera nello scriverlo e secondo me questa libertà che si è presa si sente, ma in negativo per quella che è stata la mia esperienza di lettura. Poi ho iniziato il libro che leggeremo invece a gennaio per il CV Book Club, ovvero il paese delle nevi di Kawabata, bellissima l'atmosfera devo dire, e ho iniziato anche i draghi, il gigante, le donne. Si tratta di un memoir di questa donna che è fuggita dalla Liberia assieme alla sua famiglia durante la prima guerra civile e che va poi in America. La storia parte con lei bambina, appena se non sbaglio compiuto 5 anni, sua mamma è già in America a studiare quando scoppia appunto la guerra. Già che ci sono vi faccio vedere anche cos'è finalmente arrivato, ovvero il primo caffè della giornata. Lo aspettavo da prima di Natale, mi era stato inviato ma ci sono stati dei ritardi pazzeschi, tante che io pensavo si fosse totalmente perso. Questo è il terzo libro dello stesso autore di Finché il caffè è caldo, il primo mi era piaciuto molto, dal secondo mi aspettavo qualcosa di diverso. Vedremo con questo terzo che tra l'altro ha anche l'autografo insomma dell'autore ed era arrivato anche con una tazza che era a lavare, quindi se la vedete con qualche gocciolina d'acqua è per questo. È semplicissima, blunotte, con riportato il titolo del libro, ovvero il primo caffè della giornata, molto cute. Devo dire che sono troppo contenta del look di oggi, mi piace un sacco questo maglioncino copreso da Stradivarius e non mi sono venuti nemmeno troppo male i capelli, devo dire. Quindi nulla, oggi c'è anche il sole quindi mi sento felice per queste piccole cose. Questa è un'altra parte, è un po' di soldi. A noi sembravi abbastanza convinto quando dicevi a Kaylan di voler stare con lei.